e ciao a tutti amici sono il vostro caro dexter e oggi siamo qui su test del tontolone ho già toppato siamo qui su questo test impossibile che mi avete suggerito in moltissimi continuate a suggerirmi giochi bastardi qua sotto nei commenti e ragazzi io ve lo dico se raggiungiamo 30.000 mi piace andremo a completare il test del tontolone cosa penso sia impossibile guarda quanti livelli sono proviamo dall'uno se è più bastardo che ma da quale animale discendi consiglio ti assomiglia molto la scimmia bene ora premi il coccodrillo ora la pecorella e ora premi il numero 7 ma che è sta stronzata premi il tasto rosso 5 volte 1,2,3,4,5 ho premuto 5 volte e quindi premi il tasto blu poi il tasto verde e quello rosso blu, verde, rosso che ci vuole premi i ranocchi da sinistra verso destra ma cosa hai toppato da cavo 1,2,3 adesso stiamo attenti che ci stanno le trollate premi il coccodrillo più grande ok bravo è superato il primo livello premi su topolino quali topolino questo o questo proviamo quello piccolo no era l'altro premi due volte il tasto blu e poi tre volte quello verde ok 1,2 voleva fare la trollata tiè premi il tasto arancione non esiste il tasto arancione aridai premi koala in ordine di grandezza dal più grande al più piccolo mi sembrano tutti uguali che miseria yes che cazzarola ne so quanto fa la somma di numeri della schermata precedente c'era scritto 1 1,3 non lo so 12 oh che culo non preme il tasto rosso sbrigati ok che culo ti ho dato l'idea che tu sia una schiappa grazie adesso premi la foto con il gattino ok premi 7 1,2,3,4 merda 1,2,3 non mi freghi più 4,5,6,7 va a far curare le tue trollate ho premuto 7 volte fammi passare a livello successivo forza attenzione adesso premi lo schermo ok inizio è quello verde ok premi la prima sul nord e poi due volte a sud nord sud sud si ora è stato andato molto bene sei pronto per il prossimo livello? si premi tutti i ranocchi che guardano da sinistra verso destra eh ok ok rosso verde giallo blu che cazzo devo fa? rosso verde e giallo blu che devo fare? no hai toppato non ho premuto niente si sono pronto per il prossimo livello merda mannaggia a me che premo di nuovo da capo no di nuovo da capo no 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 siamo di nuovo qua io non tocco niente mo che cacchio devo fare qua? io non premo nulla aspettiamo 10 secondi vediamo che succede non succede nulla premiamo rosso no è da capo l'indizio è quello verde ecco era quello verde vaffanculo ma vaffanculo è venuto da capo e avevo scoperto come si facevano verde vaffanculo è re degli asini premi sul risultato di 17 più 8 meno 1 diviso 2 17 più 8 no è 28 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 è 24 è 28 è 28 è 28 è 28 cerchio quadrato triangolo quanto fa 2 per 3 6 più 5 11 premi sul topo elettronico mouse premi quadrato cerchio triangolo quanto fa 7 per 8 ma che palle 56 meno 18 34 tipo no 34 uguale 38 no siti voi non avete visto niente 38 la so questa clicca sul tasto destro del mouse devo girare ok cliccato premi topolini dal più piccolo al più grande dai questo è semplice sì premi triangolo cerchio quadrato triangolo attenzione leggendo questa frase no ora devi terminare questo livello premi sul topolino più piccolo dov'è ok fantozzi è dell'idea che tu sia almeno paragonabile ad una scimmietta premi sul braccio sinistro per proseguire 5 5 che cazzo era da quale cifra era composta l'immagine della schermata precedente 5 erano tutti 5 sì ho indovinato premi nella giusta sequenza ranocchio coniglio due volte scimmia maiale ranocchio coniglio due volte la scimmia e il maiale e ora leone tre volte coniglio due volte sì vabbè che cazzarola gliela fa leone coniglio 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 maiale maiale uccello uccello leone io coniglio coniglio maiale ma quale uccello è il gufo l'uccello uccello blu ma come no stronzo ok ora uccello cambia tanto l'uccello non è quello cambia sta facendo incazzare sto spazientendo guarda ora riprendo tutto l'uccello ok andava bene ma perché prima aveva andato errore scimmia ranocchio koala koala ranocchio scimmia e ranocchio come lo vado a prendere la ranocchio koala koala ranocchio gufo sì preme il tasto rosso sì quale di questi animali appare solo una volta formica tartaruga pappagallo cazzo ne so no dai no non voglio ricominciare la capo no tartaruga professionista del reame e ora premi sul diamante quadrato più grande questo a destra no questo qua in basso a destra premi il tasto blu velo uno dopo l'altro tre volte verde due volte blu tre volte rosso tre volte verde oregano mi fuma il cervello tre volte verde due volte blu tre volte rosso sì premi il quadrato sì immetti la password e poi premi enter che cazzo è la password che cazzo è io non premo niente non la so la password qual'è la password non me l'ha detta se la sapete scrivetemela qua sotto perché io mi fermo premiamo enter no 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 capo no 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 quinta quinta bene ragazzi se sapete la soluzione ditemela voi io mi arrendo premiamo il 2 dove ci porta questo viaggio bene verso il paese del rage qui bene ragazzi basta mi ha fatto esaurire questo test basta fare errore 25.000 mi piace prossimo episodio fatemi sapere se volete il continuo fatemi sapere qual'era la password perché ricominciamo che dobbiamo finire il test numero 1 fatemi sapere se li volete tutti e 7 no ah vedi il 7 è divertente puoi sparare alle talpe no non è divertente continuate a suggerirmi i giochi bastardi qua sotto nei commenti noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video io vi mando un abbraccione un salutone e ci diciamo gente ciao 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 Grazie a tutti.